La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei quotidiani, la partita per il Colle in primo piano, anche tra i partiti, argomento principale per la scelta del nuovo inquilino al Colle. Andiamo infatti sulla prima pagina del mattino nazionale, si punta sul Premier Draghi per il dopo Mattarella. Anche il Movimento 5 Stelle pare sia aprendo ad una tale ipotesi anche se restano le riserve. Vediamo infatti il titolo Draghi al Colle, dubbi del Movimento 5 Stelle. Letta spinge per il Premier, Berlusconi verso il ritiro, ci pensa ed esclude nomi di centrodestra. Conte frena nessun veto sull'ex BCE, ma guardiamo al bene del Paese, serve continuità di governo. Vedremo infatti nelle pagine successive che chiedono dal Movimento 5 Stelle, chiedono un patto di legislatura. O meglio, il Presidente del Movimento 5 Stelle, Conte, chiede un patto di legislatura per poter supportare quindi Draghi verso il Colle. Gli articoli correlati, alleanze in bilico, le partite incrociate dei leader sul Quirinale e poi il nuovo passaggio dei nuovi articoli del mattino, il romanzo Quirinale, il freno tirato della Cartabia e il truppone grillino che sbanda. Restiamo in alto, parliamo ancora del Movimento 5 Stelle, l'inchiesta Caso Mobi nelle chat di Grillo spuntano anche i nomi di Patuanelli e Toninelli, messaggi ritenuti rilevanti dai PM. Intesa bipartisan, ecco il Covid Hotel e percorsi dedicati ai voti dei positivi, questo per quanto riguarda sempre le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Ancora in alto il cimitero nel degrado, la frana che minaccia anche la tomba della Serao. Le notizie a centropagina, Covid in primo piano, Omicron al picco ma più vaccini o nuove varianti. Parla Battiston, scienziato dei numeri Covid, tutti contagiati, teoria improbabile. E poi il caso a Salerno, Ruggi, mio padre morto di Covid e poi derubato, mentre mio padre moriva di Covid veniva derubato. E la denuncia della figlia di un paziente deceduto al Ruggi con il Covid. Nella foto notizia, ancora la cronaca, furto di identità a Monica Boggioni, tre bronzi a Tokyo. Le foto della campionessa finite su un sito di Escort. Andiamo in basso, Napoli, la grande truffa dei crediti super bonus su oltre 100 milioni con piccole banche del Nord. E poi l'auto del futuro, la D di Stellantis e la scommessa verde su Prato-la-Serra. Vediamo i titoli nei box, sotto il titolo di testata, il libro, Titti Marrone e i bimbi reduci dai lager, orrore che non si cancella. Verso Sanremo, il vecchietto Morandi lancia l'amico Ranieri, può vincere il festival. Questi titoli per il mattino, vediamo ora invece i titoli per il mattino di Salerno. E andiamo in primo piano, si apre con il nuovo bando per l'affidamento dei servizi dopo l'inchiesta sulle copp che ha sconvolto, ma soprattutto danneggiato, i lavoratori delle cooperative. Vediamo, lavoratori ancora sul piede di guerra, bando per i servizi, rivolta a Coppi, i lavoratori bloccano via Roma, i sindacati accusano, emergenza esplosiva, gara da cambiare. Il dopo inchiesta in palio 3,3 milioni, ma pesa poco la clausola sociale, gli addetti rischiano il posto. Le altre notizie del mattino di Salerno, la sicurezza, e andiamo di fondo, De Luca chiama la morgese, la concordia, in mano ai pusher. E poi il processo minacciava cognata e nipoti, lo stalker di famiglia. In alto l'economia, resta in ingurbano, 93 milioni per 14 centri, e arrivano i primi soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E ancora per la cronaca, la criminalità, droga, racket, riciclaggio, questo è il sistema Pagani, sotto la lente degli inquidenti. Centro pagina, la denuncia shock, quindi il caso Al Ruggi, mio padre morto a Ruggi, derubato di oro e preziosi, la figlia di una vittima del virus, furto attribuito ai gnoti e il Covid corre, altri 2.922 casi di positività riscontrati nel Salernitano. Caos, lezioni didattiche integrate per 600 classi, vaccini obbligatori agli studenti, questa la richiesta. Per la fotonotizia, il calcio, con il calciomercato della Salernitana, Granata, il virus si incalza, ora il derby è a rischio, gli infetti salgono a 8, intanto per il mercato c'è Mazzocchi e si sogna Diego Costa. Andiamo in basso, la bellezza sfregiata, vecchie carceri, no a contenitori vuoti, la Rocca, architetto di Blam, sostenibilità ambientale. Per le fotonotizie, il caso Blitz dei ladri nel santuario della Madonna del Carmine. E poi l'assistenza, nuovo taglio in ospedale a Cava, torna la protesta. Questi titoli per il mattino di Salerno, vediamo invece sulla prima pagina della città il furto al santuario della Madonna del Carmine in primo piano. Vediamo il titolo, Carmine, furto al santuario, rubati gli argenti del tesoro, spariti gli oggetti liturgici del Settecento, il dolore dei fedeli, donbiaggio peccato grave. Le notizie di fondo, Salerno, piscine sull'ex poste, il rainone a giudizio. Ancora Salerno, positivi 90 autisti, assalto agli autobus. E poi emergenza, pandemia, contagi, giù la curva e record di guariti. Per le notizie invece di spalla, la Salernitana in primo piano, Salernitana verso la sfida a Napoli, in casa Salernitana infetti a quota 8, il derby è a rischio. E poi per il mercato invece Sabatini tira la linea promossi e bocciati. E poi troviamo l'intervista, arriva l'assist di Ventura, salvezza? Per quanto riguarda invece le altre notizie, andiamo a centro pagina. Anche qui troviamo un ritorno sul caso Copp. Per quanto riguarda il nuovo bando del Comune, vediamo bando manutenzioni, la rabbia degli operai, basta presi in giro. E' sempre Salerno, il caso Fonderie Pisano, ok regionale, respinto il ricorso delle associazioni. Andiamo in basso, andiamo a Pagani, ecco gli affari d'oro dei Pusceli, in una notte anche 3.000 euro, molti clienti insospettabili. A Eboli nuovo colpo al pit stop, denunciati altri due labbri. Questi titoli per la città, vediamo i titoli per le cronache. In apertura parliamo di un caso di sanità, di mala sanità, partorisce sulla barella davanti al pronto soccorso, perde il neonato di sette mesi, inutili i tentativi di soccorso per il piccolo. La mamma che abita sul Carmine, operata d'urgenza dal dottor Polichetti, è ora in sala a rianimazione. Andiamo in alto, nasce Primavera Meridionale, serve una nuova classe dirigente per il paese. E poi, a 22 anni dalla morte di Bettino Craxi, ricordo cerimonia privata da Mamet, Bobo e Stefania ricordano il padre a 22 anni dalla sua morte. Le notizie a centropagina, il calcio mercato della Salernitana, Presi, Mazzocchi e Iervolino, il Sogno e Diego Costa, dal Venezia arriva il terzino destro, per l'attacco ci sono Eder e Destro, per la primavera arriva intanto il nipote del presidente, si attende l'annuncio di Sepe. Andiamo di fondo, l'ASL non risponde, di Gaeta Sait solo a Salerno, le farmacie non fanno i vaccini. Ancora la cronaca, furto sacrilego al Museo della Chiesa del Carmine, poi torniamo a parlare di Covid, ma di Covid nelle scuole, la preside del Tasso, ab vaccinale a scuola, ha chiesto a maggio, ma l'ASL ci ha ignorati. E poi parla Rosaria Chechile, alla Gorà del PD, Quirinale, Segre o Cartabbia, è l'ora di una donna. Questi titoli per le cronache, vediamo la prima pagina del quotidiano del Sud. In apertura si parla del caso delle cooperative, dopo il bando del comune, vediamo, riscoppia la grana cop, così titola il quotidiano del Sud, la rabbia degli operai disoccupati, penalizzati dal nuovo bando, la mancata previsione della clausola sociale, lede gli addetti. Proteste, un tentativo di blocco stradale dei lavoratori, azzerati dopo l'inchiesta penale. il covid ancora nelle notizie di primo piano, sulla prima pagina del quotidiano del Sud, vediamo gli ultimi dati, parlano di 25 morti ieri, arrivano gravi accuse alla regione, per quanto riguarda proprio la gestione della pandemia, e la gestione della sanità in Campania. Per quanto riguarda invece la scuola, tutti a scuola, 90% delle classi sono in presenza. Di spalla l'inchiesta Palazzo Poste per i Renone, d'invio a giudizio a San Severino, scontro politico sul restauro del castello, sabato su Rai 3, a Cava dei Tirreni, ospedale in tilt, penalizzati malati di cancro, soppressi altri servizi per i malati. Nella foto notizia, la Salernitana, 8 i positivi, a rischio il derby di domenica al Maradona, il portiere Sepe è quasi granata. E' ancora in basso il volume, Cappuccia, l'opera lirica ispirata da Rea. Questa è la prima pagina del quotidiano del Sud, torniamo ora sulle pagine del mattino nazionale, sulle pagine di primo piano, parliamo soprattutto della corsa al Quirinale, i nomi e soprattutto come si stanno muovendo i partiti per cercare, per trovare una quadra su quello che dovrà essere il prossimo inquilino del Colle. Vediamo che intanto il centrodestra, che puntava e punterebbe ancora su Berlusconi, pare però che Berlusconi non abbia ancora sciolto la riserva, vediamo quindi che si pensa già a un piano B, ci pensa proprio Berlusconi per il mattino, vediamo Berlusconi ha già il piano B, solo il Premier al posto mio. Il capo di Forza Italia valuta il passo indietro e resta ad Arcole, vertice di centrodestra in stand by, tra le richieste del CAV, Gianni Letta come segretario generale del Quirinale. e poi Silvio non vuole lasciare a Salvini il ruolo di Kingmaker per decidere in prima persona la partita del Colle. Andiamo in basso, le mosse di Meloni e Salvini, ritati per l'incontro saltato, un nome che allarghi il campo, la leader di Fratelli d'Italia, tra di noi non ci sono, Franchi Tiratori, Letizia Moratti e Cartabia, i nomi da cui partire. e l'olobrigida al Quirinale serve una figura autorevole che rappresenti tutti gli italiani. Vediamo quali sono le tappe per la nuova elezione del Presidente della Repubblica, l'incontro tra i leader, doveva esserci oggi, ma in realtà è saltato, a data, si dovrebbe tenere, insomma ancora non è stata fissata, la nuova data, l'incontro tra i leader del centrodestra, in vista delle votazioni di lunedì prossimo. Capigruppo in riunione, la riunione dei capigruppo è convocata alla Camera dei Deputati, si dovrebbe tenere anche negli uffici, si potrebbe tenere anche negli uffici di Presidenza e delle Camere e della Camera e del Senato. E poi si partirà lunedì con le votazioni, lunedì 24 alle 15, una chiama al giorno, turni da 50 grandi elettori alla volta, nuovi catafalchi e sanificazioni dopo ogni tornata. E poi i quorum necessari per eleggere il Presidente nelle prime tre votazioni, serve il quorum dei due terzi degli eventi diritto, quindi sono 1.900 gli elettori dalla quarta in poi basta anche la metà più 1 per eleggere il nuovo Presidente. Chiudiamo questa pagina, restiamo sul tema dell'elezione del nuovo Presidente, vediamo invece quali sono i timori del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il successore di Mattarella, vediamo la linea dei Big 5 Stelle, un patto di legislatura per evitare le elezioni, questa proposta nel caso in cui si debba convergere sullo nome di Draghi. Incontro Conte Di Maio alla Farnesina, cercherò di tenere uniti i parlamentari, ma tra i grillini ci sono ancora timori. Al Senato una frangia è per il Mattarella Bis, un'ora di colloquio distensivo dopo che i due leader negli ultimi tempi si erano trovati su fronti opposti. i grandi elettori pentastellati sono al bivio, il messaggio ai ribelli, il Premier va preservato. E andiamo in basso, primo sì per far votare anche positivi, ipotesi Covid hotel e percorsi dedicati. Passano gli ordini del giorno presentati da Barelli di Forza Italia e da Lolo Brigida di Fratelli d'Italia, oggi si pronuncia la Capigruppo. La consulta boccia il ricorso sullo Super Green Pass, non l'è del diritto di voto, in Sicilia ordinanza per gli spostamenti. Chiudiamo anche questa pagina, cambiamo argomento, parliamo ora invece del Covid, ma soprattutto del Covid. Nelle scuole è intervenuto il ministro dell'istruzione Bianchi per quanto riguarda proprio i dati relativi agli studenti, ma soprattutto alle classi che ricorrono alla DAD per i casi di positività tra gli studenti. Vediamo, Bianchi contro i presidi sulla DAD seguono le ASRI. Il ministro dell'istruzione smentisce i dirigenti, a casa solo il 6,6% dei ragazzi. Proteste per i ritardi delle decisioni, troppe letture diverse dei protocolli. L'Associazione Nazionale Presidi rilancia le statistiche che vanno pubblicate ogni settimana. E poi ancora troviamo l'intervista a Cristina Costarelli. Le regole sono chiare e noi dobbiamo applicarle. I dirigenti non possono non disporre la DAD e l'uso delle mascherine, ma il controllo sulla classe spetta ai sanitari. In basso, il Novax fuoco ricoverato per Covid aveva esultato per la morte di Sassoli, identificato dalla Polizia Postale per i messaggi oltraggiosi. Il suo canale Telegram ha 36.000 follower. E chiudiamo anche questa pagina. Parliamo ora invece del caro bollette, un salasso che diversi, tanti cittadini si stanno ora trovando proprio in questi giorni nelle loro bollette, in particolare nelle bollette dell'energia elettrica. Vediamo cosa sta facendo il governo proprio contro il caro bollette. Vediamo bollette, taglio dell'IVA, sostegni rafforzati per famiglie e imprese. Lungo vertice a Palazzo Chigi con Draghi, slitte il taglio degli extra profitti alle aziende. In arrivo anche la sforbiciata aglioneri di sistema e fondi dalle aste per il CO2. Oggi prevista una nuova riunione prima del Consiglio dei Ministri per varare il provvedimento contro i rincari. E poi ancora in basso gas l'Europa dribbla Mosca e punta su Azerbaijan e USA. Bruxelles vuole allentare la pressione sui prezzi aumentando subito le scorte. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi. ben tornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo sulle pagine dedicate alle notizie della provincia e andiamo sulle pagine di primo piano del mattino di Salerno. Abbiamo visto anche dalle prime pagine si parla del caso al Ruggi con la denuncia della figlia di un paziente deceduto con il Covid. vediamo Ruggi la denuncia shock pazienti uccisi dal virus derubati di oro e preziosi la figlia di una vittima del Covid accusa a mio padre sottratta anche la dentiere indagini inutili furti attribuiti e ignoti altre segnalazioni restano nei cassetti mentre mio padre moriva di Covid in ospedale gli hanno rubato la catenina d'oro con il crocifisso il cellulare l'orologio la protesi dentaria e i ricordi la denuncia arriva da Cristina Scannapieco alla fine dell'inchiesta interna che ha bollato la vicenda come furto commesso dai ignoti ieri intanto 2922 nuovi infetti due morti ad Angri Camarota Lusca lavora in ritardo tratta ora i tamponi del 6 gennaio e poi la polemica di agnosi ed esami fondi tagliati a pagamento prima del previsto centri privati contro la regione Federlab folle il metodo di ripartizione per la scuola 600 classi in didattica integrata i presidi obbligo vaccinale per gli allievi alunni in quarantena o positivi a casa mentre i compagni sono in presenza in costiera i sindaci riaprono gli istituti scolastici chiudiamo questa pagina restiamo sempre sul mattino di Salerno e andiamo ora a parlare dell'inchiesta o meglio non dell'inchiesta del nuovo bando dopo l'inchiesta sulle cooperative i lavoratori scendono nuovamente in piazza vediamo bando per il patrimonio lavoratori cop in rivolta impegni non rispettati l'accusa poco peso la clausola sociale così gli addetti rischiano di essere esclusi proteste e blocco stradale a via Roma situazione esplosiva gara da integrare 3,3 milioni per i servizi bloccati dopo l'inchiesta su appalti e voti della procura il sindaco questa l'unica scelta possibile e poi andiamo in basso arrivano nuovi 93 milioni dal piano nazionale di ripresa e resilienza per 14 comuni della provincia salernitana per lo più si tratta di comuni a nord della provincia salernitana vediamo a 14 municipi i primi fondi del PNRR 93 milioni per la rigenerazione vediamo quali sono i comuni che otterranno i finanziamenti partendo da Salerno che ottiene 20 milioni di euro segue Cava dei Tireni con 10 milioni due progetti presentati uno da 8,7 milioni e uno da 1,29 milioni Battipaglia 9,95 milioni Eboli e Mercato San Severino 5 milioni 5 milioni anche a Nocere Inferiore e Capaccio Pestum che hanno deciso di presentare un unico progetto poco al di sotto della quota di 5 milioni c'è Angri e poi anche Agropoli Campagna Pagani e Scafati questi i comuni a cui sono destinatari dei fondi per la rigenerazione urbana andiamo avanti sempre sulle pagine del mattino di Salerno e andiamo sulla pagina della Piana del Sele del Cilento dei Picentini e del Vallo di Diano vediamo in apertura andiamo nella Piana del Sele a Battipaglia demolire e ricostruire la scuola a Fiorentino finalmente c'è l'appalto l'intervento affidato ad una ditta di Giuliano per 4,4 milioni sollievo per gli studenti dirottati altrove e per i conti pubblici e poi a Eboli Borgo di Benedetto risorse merito nostro andiamo a Eboli denunciati altri tre ladri ma i furti continuano e poi per le notizie in basso a Campagna la preghiera per i cristiani d'ogni credo portiamo luce ammalati ed emarginati a Centola Palinuro arco naturale la gara per il consolidamento presso l'arco naturale di Palinuro potrà tornare all'antico splendore si spera che già la prossima stagione estiva i turisti possano sdraiarsi dopo anni di attesa nell'esclusiva spiaggia posta ai piedi della struttura monumentale in località Mingardo andiamo di spalla Vallo della Lucania CONSAC fondo per pagare meno l'acqua che si perde un fondo ad hoc contro le perdite occulte di acqua e quanto stabilito dal nuovo regolamento del CONSAC il soggetto gestore del servizio idrico integrato per 55 comuni compresi nell'area Cilento Vallo di Diano che consentirà agli utenti pagando una quota minima annuale di 10 euro di evitare ingenti e sborsi derivanti dalle cosiddette perdite occulte di risorsa idrica si tratta di una delle novità più rilevanti contenute nel regolamento del servizio idrico integrato e poi per il tribunale di Sala Consilina arriva l'appello del Movimento 5 Stelle a Cartabia un appello alla ministra a Cartabia per la riapertura del tribunale di Sala Consilina arriva dalla senatrice Felicia Gaudiano Chiudiamo le pagine del mattino di Salerno andiamo ora sul pagine del quotidiano del sud si parte con la scuola interviene Conte di Leu che chiede di riaprire tutte le scuole visti i dati che mettono in risalto proprio la campagna che è la regione con la più alta percentuale di alunni in presenza vediamo adesso tutti a scuola questo è il titolo Conte di Leu chiede al governo di agire contro le ordinanze dei sindaci che bloccano la didattica in campagna il 90,2% delle classi in presenza più della media nazionale primi cittadini concordi sulla decisione si torna in aula lunedì dopo uno screening anche in costiera amalfitana e poi il caso Italo sito di Italo aggiornato ticket acquistati prima la storia di Montefusco e del Green Pass in data 27 dicembre quando sono stati comprati i titoli di viaggio l'informazione non poteva essere presente perché non esisteva ancora la norma andiamo avanti andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie dalla parte più a sud provenienti dalla parte più a sud della provincia di Salerno sulle pagine dei territori andiamo a Eboli per la cronaca vediamo individuati ladri seriali sospiro di sollievo in città per ora solo denunciati due uomini autori dei colpi nei negozi uno era già stato fermato per aver svaliggiato una serigrafia incubo la coppia aveva preso di mida via nobile in particolare in basso il caso dell'operaio caduto da una impalcatura in un cantiere edile a Buccino vediamo precipita da un'imbalcatura di 3 metri gravi le condizioni di un operaio sessantenne in poco meno di 20 giorni sono già due gli incidenti sul lavoro nel Salernitano ancora Eboli ad Elizi del Movimento 5 Stelle per settori del reddito di cittadinanza negli hub per settori di reddito di cittadinanza impiegati per la campagna vaccinale questa è la proposta del deputato Cosimo Adelizi condivisa dal Movimento 5 Stelle e Bolitano e poi da Sanza si punta al turismo di ritorno vediamo la scommessa sul turismo di ritorno il Comune aderisce all'iniziativa internazionale 2023 anno di turismo di ritorno alla scoperta delle origini rivolto ai cittadini italiani residenti all'estero e agli oltre 70 milioni di connazionali di seconda terza e quarta generazione che vivono in altri paesi del mondo il progetto prevede in Italia 13 mesi di organizzazione quindi fino al febbraio 2023 10 mesi di operatività si punta proprio al ritorno dei residenti all'estero per creare appunto questo nuovo settore turistico lasciamo anche questa pagina che siamo sempre sulle pagine dei territori del quotidiano del sud andiamo ad Albanella cercasi sindaco anche usato questo è il titolo difficile l'individuazione di un candidato dopo il crack dell'amministrazione Baggini sullo sfondo veleni e bombe carta tra i nomi che girano ci sono anche quelli di Santo Mauro e Antonio Marra esterni c'è chi pensa di trovare quello giusto pescando nei centri limitrofi ancora Albanella cadavere nell'uliveto l'autopsia non svela l'identità si è svolta ieri all'obitorio di Eboli l'autopsia sul cadavere trovato in un uliveto di Albanella il 10 gennaio scorso ad eseguirlo uno specialista di Benevento l'esame oltre 4 ore di rilievi non sono bastate a svelare con certezza l'identità della vittima in basso rifiuti interrati a vecchio lo scontro si riaccende scambio di accuse tra Borrelli e De Filippo l'area di Vibonati ora ospita un poligono di tiro ma sotto c'era una discarica e poi Cilento Vallo di Diane Alburni dieta mediterranea sempre al top regime alimentare premiato e chiudiamo anche questa pagina chiudiamo anche il quotidiano del sud vediamo invece quali sono le principali notizie per il quotidiano le cronache si parte dal caso per quanto riguarda una positività che l'asla aveva riscontrato su una su una persona una positività che poi in realtà non c'è mai stata come la stessa persona la stessa signora insomma si è trovata a dover spiegare vediamo dopo molecolare scopre di essere guarita dal covid mai stata positiva per l'asla la donna era in quarantena era in quarantena da ben tre mesi nel frattempo a dicembre si è sottoposta alla dose booster a novembre molecolare il risultato era alterato segnalata all'asla vediamo il racconto si sottopone a tampone molecolare prima di una visita medica e scopre di essere guarita dal covid è quanto accaduta ad una cittadina salernitana che lo scorso mese si è anche sottoposta alla dose booster di vaccino anti covid la donna il 18 novembre scorso sempre per una visita medica poi rinviata per causa di forza maggiore si era sottoposta a tampone molecolare dopo 24 ore chiamano dall'asla e mi dicono racconta la donna che il risultato del tampone era stato alterato ma aveva l'influenza e di conseguenza era sicuramente positiva ero stranita da questa risposta e poi continuiamo sempre su questa sulla storia quindi la donna quindi si reca presso altri centri per effettuare i tamponi spiego l'urgenza al centro ovviamente diverso dal primo e la sera mi arriva il risultato ero negativo lo sono sempre stata a meno che non mi sia negativizzata in 24 ore che sarebbe stato poi un vero record racconta la donna la donna infatti proprio perché influenzata nei giorni precedenti ha fatto diversi tamponi rapidi in farmacia e tutti sono risultati negativi e poi insomma dopo tre mesi si scopre quindi che si era negativizzata dopo data per positiva perché influenzata mai revocato il green pass né il super green pass e cambiamo argomento andiamo in basso mentre mio padre moriva di covid in ospedale hanno rubato i suoi effetti personali Cristina Scannapieco a nome della sua famiglia racconta l'accaduto inchiesta chiusa dopo otto mesi circa chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle cron che vediamo il caso andiamo sulle pagine successive si parla del tribunale di sala consiglina con l'intervento della senatrice Gaudiano vediamo Gaudiano il tribunale deve tornare a sala consiglina illustrati i disagi che vivono i cittadini la senatrice del movimento 5 stelle ha sottolineato alla ministra cartabia l'urgenza di intervenire sulla riforma della geografia giudiziaria lo chiedono a gran voce i cittadini e gli operatori del settore ai quali mi unisco nell'appello e andiamo in basso Capaccio al via i primi sei cantieri del 2022 si parte in via Crispi di facimento del manto stradale poi ad Albanella cadavere nell'uliveto eseguita autopsia identità ancora incerta proseguono le indagini della procura e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13 e 45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito